Il nostro corpo è poco distante, vediamo di raggiungerlo. Questa forma che ci ricorda veramente una marea di team park. Vediamo la persona prima di noi dove era Mortar, abbiamo ereditato questa postazione. Eccolo qua, lo suscitiamo e tutto diventa di nuovo a colore. Il nostro personaggio, vestito in maniera molto americana direi. Pistole, pistole alla mano, vediamo un po' di far fuori qualcuna. Abbiamo fatto fuori, ci è voluto un po'. Ci sono degli altri mostroni, sicuramente moriremo. Allora, proviamo un po' di farli fuori. Questi colpiscono pesantemente. Queste creature che sembrano mitologiche. Noi con questo, queste immagini terrificanti di questi mostri loftrafiani vi lasciamo, prima di morire, fare una figuraccia. Ciao a tutti! Ciao a tutti!